con un noto brano di lucio battisti cantato dal prefetto in persona antonio corona si è aperto al teatro alle vigne di via cavura lodi lo spettacolo che ha concluso le celebrazioni del 2 giugno sul palco del teatro comunale si sono esibiti attori cantanti lirici e comici per un pomeriggio all'insegna della valorizzazione della costituzione proprio la lettura dei primi articoli del dettato costituzionale ha fatto da prologo alla serie di esibizioni che si sono susseguite per oltre un'ora e mezza luca violini ha letto ed interpretato alcuni dei brani letterari più significativi in tema di libertà gli hanno fatto ecco il soprano elisabetta marighetti ed il maestro paolo marcarini che hanno eseguito brani tratti da cilea e puccini per la la ribalta è passata in mano ai due comici locali franco rossi e bigno bignami con loro si è sorriso sulle vicissitudini della vita quotidiana ultimo momento altre canzoni proposte dal prefetto sociale all'incontro 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 Grazie.